Questa aula non può prestarsi a diventare il ricettacolo delle iniziative pubblicitarie dei partiti e io personalmente dissento da qualunque forma di questo genere e sono basito dal comportamento di un partito di maggioranza. Invito per cortesia, mi sto riferendo al suo vicepresidente in questo momento, che sta usando questa... Richiamo il vicepresidente Cecchetti, lo espello dall'Aula. Il vicepresidente Cecchetti è espulso dall'Aula. Prego i consiglieri di farlo espellere dall'Aula. Grazie. Prego gli addetti d'Aula di espellere il vicepresidente Cecchetti dall'Aula. Il vicepresidente è espulso dall'Aula.